io mi ho fatto questo, l'ho visto Stefano corre perché ha mangiato il pesce a Porto Nuovo 20 anni fa, perché ho scoperto che l'ha fatto la papà Davis a Pesaro e io c'era stata se ne ricordo non si ricorda, però noi ci eravamo andati a vederlo io ho più tanti ricordi che dopo ci avevano fatto il buffet ci avevano regalato una sciarpa aspetta che mi alzo un'altra, mi vuol dire che vado a riprendere bravo grazie grazie grazie